Ciao, questi ragazzi sono andati con la parte numero 24, se non sbaglio, del spray di Life is Strange. La parte scorsa sono andati in questa stanza, che è, probabilmente, quella che immagino sia la Dark Room, abbastanza scura. Avevo scoperto che Rachel probabilmente è stata seppellita nella discarica. Qui ci stanno andando il più velocemente possibile. Non dimmi che questa fiera il capitolo. Cazzo, passiamo a fare due secondi, la puntata precedente, finiva il capitolo. Vabbè. Oggi iniziamo al capitolo, quinto, quindi immagino. Vabbè, sapevo che avevi finito capito corti questa parte, ma... Guarda, questo è tutto, questo è tutto. Sì, vi ricordo che secondo me Rachel era morta. Cosa è il cadavere di Rachel? Chloe. Rachel, Kim... Rai, scusate Chloe. Sono molto scusate. Io la ammoglava molto molto. Come si può essere morta? Che tipo di mondo fa fa' questo? Chi fa' questo? la la cerva ma chi è sta cerva sarà mica lo spirito di rachel possibile mi hanno detto di tenermi forte per quanto riguarda la fine del capitolo 4 ma il capitolo 4 non è finito perché nel come si chiama quando abbiamo finito il capitolo 3 che c'era diciamo l'anticipazione del capitolo 4 ci faceva vedere Max ha una festa probabilmente il Vortex Party Vortex Club che è Vortex Party quindi non è finita non è finito il capitolo 4 attenzione non è sicuro non è finito il capitolo 4 non è finito il capitolo 4 possiamo andare direttamente ai coppi abbiamo proof f*** la polizia rachel chiedeva la rachel chiedeva la rachel chiedeva quindi potremmo potremmo reale giustizia ma and revenge the Prescott have had this coming for a hundred years and nobody is going to get in my way especially with your help right I'm with you to the end Chloe you know that end of the world fine del mondo il giorno prima della fine di Arcadia Baby ma c'è dei proietti sulla collana i fattoni fattoni due lune due lune come fra la fantasy 4 due lune non esiste no ma è ubriaco no anche lui si ubriaco ma dai non è menza bierda non è menza bierda per i posteri per i posteri i know i'm painting the booty just one picture si ma faa alla c'è ahhh action we've got no time for this shit come on max sorry i just wanted to feel like a normal student after this week's ultra violence i never hit anybody like that before i was always the one getting my ass kicked hey hey we still need your expert help if you see Nathan text me immediately ok and do not let him see you you won't I know how to be invisible here not to me Warren text soon ma noi non siamo invitati alla festa non possiamo entrare ok Chloe where the hell are you I hate touching all these clothes it is kind of now hi Stella hey Max welcome to the end of the world do you want me to check anything in uh no thanks Stella have you seen Nathan yet no thank god that creeps me out wait some girl just asked about Nathan before you came in what girl she had blue hair dressed like a punk I've seen her putting up those Rachel Amber posters I'm stuck here so I'm sorry I can't help you so why are you working at a vortex club party I didn't think you wanted to be a member screw that I'm here for the job who hired you mr. Jefferson asked me because he knows I don't have a lot of money even with my job and scholarship I'm not cool enough for this school yes you are Stella you're smart honest and you bust your ass for Blackwell I hope everything turns out your way in the end well thank you Max I really appreciate that hey your face looks so intense are you okay uh no I'm actually not okay I I just need to find Nathan and don't get too close if you see him hell no this is homework not a party I'll text you if I spy him okay yeah 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 there is a list of guests I can't have that Mother Because we areapseed peace peace god oh my god peace 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 questo è la... secondo me il lato peggiore di questa faccideltà penso che mi sentirei estremamente a disagio in una festa del genere veramente mi mettono i brividi questa festa qua veramente ma quanto fumo c'è una coltre di fumo Brooke no 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 è no no Sì, vabbè, voglio sentire questi dialoghi inutili. Exit the Vortex Club. Eh, vabbè, che schifo. Kill the Prescott. Qualcuno ha oltre il sexo o si traccia. Oltre. Gross. Come si è arrivato qui? Magari non sei l'unico che si traccia. Questa è la mia ultima Vortex Club. Non si traccia. Ma che cazzo? Apparentemente Blackwell ha una fettura di toilet paper. Allora, ho un modo per entrare. Passando per l'acqua, direi. Insomma, l'idea migliore. Ok, qua non si può passare l'immagine. Oh sì? No. Un repulgito l'ora, eh. Che cosa fai qua qua? Io non ho fatto niente. Che modo originale passa da un'altra parte. Che cazzo? Wow. Kate. E' stato bello vederti sorridere di nuovo. Sei molto importante per me e anche per molti altri. Devo andare ora. Vado solo a dirti di divertirti al drive-in con Warren. E' così dolce. Mi ha portato dei libri di scuola che mi servivano. Abbraccio da parte mia. Lo farò. Chiamami appena puoi. Nathan è la Vortex Club. Quindi il suo a** deve essere qui oggi. Cosa mi ha, non c'è il mio figlio. Non c'è nessuno. Allora, non c'è nessuno. Non c'è nessuno. Non c'è nessuno. Ti auguro che Victoria è la prossima nella lista di Nathan. E ne vediamo! Perché i figli? Ma non c'è nessuno, ma non c'è nessuno. Adesso ho voluto andare nel posto del drive-in. Non c'è nessuno. Mi ha saputo se la Victoria è la prossima nella lista di Nathan. Cosa? Ragazzi, Max. Sto facendo te off. Prendete la tua foto, Victoria. Non ho tempo per questo sottotitolo. È davvero bello, Max. E dopo aver l'apologizzato a te l'altro giorno. Hai anche una scuola di ciò che sta succedendo a Blackwell? Kate Mars ha cercato di uccidere in fronte di te. E io. Tutti qui. Non è la mia scuola, Max. Non ti cercate di me. Ok. Uh... Mi scopo Nathan per la scuola di Kate, ma nessuno di quella parte non mi piaceva che lei fosse così scusata. È una parte parte! Tutti si scusata! Cosa vuoi? Cosa vuoi? Un'umanità, Victoria. Voi, tu hai scuola Nathan da Blackwell, quindi devi essere felice. E io sono la sola persona qui che importa di cosa Nathan sta succedendo. Questo è più grande di un problema, childe. Non sono perfetto, ok? Sono una scuola di un'attività. Ok. Oh, ma è l'attività di essere un'attività... Ma è l'attività che sono una scuola di un'attività. espectro! Ma è un'attività, Victoria! Ma non ha bisogno di spenderlo dalla gente. Ma non lo ho capire! Ma i Nembri, ha un'attività di un'attività. Ma è un'attività legume di giocare. È quanto giusto! Non, è un'attività! Ma non li ha bisogno di giocare. Ma non, non è un'attività. Ma è che non ha bisogno di giocare le loro! Ma cosa veri che era così attivano, ma era molto famoso. Sono ut有一'attività, Max. Grazie. Grazie per accettare di nuovo che ho alcuni talenti. Non che credo che lo faccio sempre. Non lo so, ma... E' quella la scelta che tu hai fatto. È difficile da credere, ma io non sempre faccio la migliore scelta. Credo che sia come fatti che non saremmo amici? No, perché? Certo. Certo, Max Caulfield, ancora c'è tempo per te... Che bello la sento, l'unico di Victoria. In realtà ho sperato, Victoria. Perché ti dico così? Victoria, ascoltami. La tua vita è in vero serio. Sento che Nathan è il tuo amico, ma... è davvero non stabile e pericoloso. Certo. Certo. Certo, Max. Ma non credo. Ma non credo. Certo. Certo, non lo so ancora. Ma è sufficiente per fare Kate chiedere a morire. E credo che sei la prossima. Max, questo è vero. Nathan è come uno dei miei amici. Sì, prende i medici seriosi, ma non è la sua. Ma non è la sua scola, ma quella è una la sua scola di amici. Ma non è ancora più piccola. Ma non sono ancora piccola. Ma sono morti. Ma non mi ha ognuncio, ma non mi ha ognuno. Ma devi mi credere. Chiedi per me la persona. Ma non mi ha ognuno. Ma non mi ha ognuno. Ma non mi ha ognuno. In realtà credo che sei uno dei più più amici i Blackwell. Certo, ma ragazza. Ok Siamo anche in attenzione, ho la mia propria protezione. Eh... Tecchi mi se necessitavi. Spero. Grazie Victoria. Ok, abbiamo vertito Victoria. Chloé? 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 Siamo con comunque 20 minuti, però la Fist dólares è stata un po' più lunga. Tuttavia, chloé? Non c'è qui. Tu sei. Chloe, Nathan non c'è qui. Nessuno lo ha visto oggi. Non c'è sicuramente non c'è. C'è sicuramente non c'è l'occorso. Poi proviamo. Nathan non c'è nulla. Quindi tu hai fatto, Max. Oh, uh... Hey, Mr. Jefferson. Oh... Oh, uh... I was just... looking for Nathan. Uh-huh. I didn't know you were pals with him. I haven't seen him since this afternoon. He seemed pretty upset. I think he's still quite upset over the... uh... the whole... Kate's situation. Yeah, that makes sense. Let's talk later, Max. I have to announce the winner of the contest. I do wish you would have entered. You have to build up that resume and portfolio, but I know you will. Thanks. I hope so. Okay. Excuse me. I'm almost gone. Let's get the hell out of here, Max. Okay, everybody calm down. Thank you. Thank you. I appreciate it. Look, I don't want to get in the way of the party, but it's time to announce the winner of the Everyday Heroes contest. Before I do, I want to thank everybody who entered their photograph and everybody who thought about it. You were so hot! Now this is the most important step in being an artist. sharing your work with the world. All of you represent Blackwell Academy and everything our school stands for. As far as I'm concerned, you're all everyday heroes. The envelope, please. And the winner is... Come on! Oh, my. What a shocker. Victoria Chase. Oh, my God! Oh, my God! Que surpresa, hein. Thank you so much, Mr. Jefferson. It was your incredible photography that brought me to Blackwell and I hope I can live up to your name and fame. I also want to thank all the students for being so dedicated in their pursuit. And I'd like to dedicate this prize Che bello Dai Che bello, iż teraz, ja też. Chodźmy sprawdzić te dormitori. O Cześć, Nathan mi napisał. Powiedział, że jeszcze nie będzie znaleźć dowód, po czym on się zakończył. Cholera. Musimy go do górna, teraz. Sto spegnendo una delle due lune? Ma che cazzo succede? Forse ho finito il capitolo. Se manca così poco il capitolo vuole finire cosa fate. Sboglia questo rumore che si sente quando vai indietro nel tempo. Sboglia questo rumore. Sboglia questo rumore. Sboglia questo rumore. Sboglia, voglio uccidere a questo piccolo. Noi, non posso concentrare se si chiede. Sboglia. Max, sboglia! Sboglia! Sboglia, Max, guarda! Sboglia ancora. Non guarda, Chloe. Oh, non! Nereda? No, aspetta! Che cazzo... No, aspetta! Chloe... Ma che cazzo... Jefferson? Sboglia, aspetta. Sboglia per il culo. Jefferson mi ha... Tipo addormentato. E poi ha ucciso Chloe. Cioè mi vuole fare adesso... Torturare come l'ha fatto anche con... Kate e tutti gli altri. C'è una cosa che non mi aspetta ora questo. Allora, ha accettato la richiesta di Chloe. Ok. Ha impedito a Warren di pestare Nathan. Non mi so che più del 50% abbiano fatto questa scelta. Vedi che c'è la scelta? Nessuno si è fatto male. Porca puttana. Il 72% è riuscito a trovarla. Io quante volte ho riavvolto in quella parte? 3 o 4. E non sono riuscito a farlo. Cazzo. Non ho avvertito. Victoria non ha creduto. Victoria ha creduto. Perfetto. Vediamo cosa ha fatto il mio amico. Non ha ucciso Chloe. Questo lo sapevo. Ha impedito la cosa di pestarlo. Ok. Nessuno si è fatto male. Oh, devo farmi spiegare come cazzo ha fatto. Allora. Hai lasciato morire l'uccello blu. Amo. C'è un altro uccello a salvare. Ah, fanculo. Non hai disturbato il nido. Ah, beh, in realtà l'ho fatto ma poi sono tornato indietro. Hai trovato il codice di David. Ah, vabbè, sì. L'ho già trovato nello scorso capitolo. Katie ha aiutato a trovare la stanza di Nathan. Non hai convinto Daniel a partecipare alla festa del Vortex Club. Ah, non ci ho proprio parlato, quindi. Non hai lasciato un messaggio sulla lavagna di Warren. Non potevo. Cazzo. Non hai scoperto il pin di Nathan. Eh, vabbè. Ho dovuto usare il PUC. Ha aiutato Alissa. Vediamo cosa ha fatto mio amico. Non ha disturbato il nido. Ha aggiunto il cartone di un altro modo. Ah, c'è un altro modo? Ah. Vabbè. Katie ha aiutato dalla stanza di Nathan. Vabbè, ok. Non hai convinto Daniel a partecipare alla festa del Vortex Club. Ok. Ha lasciato un messaggio sulla lavagna di Warren. Eh, lì non l'ho splotto tantissimo. Non ha scoperto il pin di Nathan. Ha aiutato Alissa. Ma io direi di vedere l'anteprima dell'episodio 5 e poi chiudere. Quindi era Jefferson. Ah, sì, ma Nathan, però. Cioè, Max sta venendo torturato. No, almeno Max no. Così innocente. Vabbè. 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 Anche Rachel e Kit. Eh, Rachel magari no, però Kit. Polarized. Questo è anche venerdì. Quindi il giorno in cui... Ci sarà... Oddio! Ha cambiato il menu principale! No, vabbè. Che figata. Vabbè. Temo qui la parte numero... Questa era... 24 se non sbaglio. Let's play Life is Strange. Ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi! Ciao ragazzi!